Andrea, come evitare descrizioni noiose? Allora, cominciamo a vedere che cos'è una descrizione. La descrizione è la rappresentazione di un oggetto, di una persona, di un luogo, di un animale o di altro per come appaiono nella loro fisicità. Questa è la definizione. E qual è la loro funzione, il loro ruolo all'interno di una narrazione? Le descrizioni servono a un po' di cose. Servono a descrivere, appunto, poi a rallentare la narrazione o a metterla proprio in pausa, a passare informazioni al lettore. Vi ricordate le sequenze di una narrazione? Rinfreschiamoci la memoria. Dunque, ci sono quattro tipi di sequenze in una narrazione. Sequenze narrative, quelle che mandano avanti la storia, quelle in cui avvengono i fatti più importanti che compongono la narrazione, le sequenze descrittive corrispondono a una descrizione di un personaggio, appunto, di un ambiente o di un evento o di altro. Poi ci sono le sequenze dialogiche, corrispondono a un dialogo fra due o più personaggi. Poi ci sono le sequenze riflessive, che corrispondono ai momenti di riflessione dell'autore o di un personaggio. Per semplicità, abbiamo considerato separatamente le sequenze narrative che portano avanti l'azione e quelle descrittive riflessive che la rallentano. Ma nella realtà di un romanzo, di un racconto, possiamo anche combinarle insieme, in sequenze miste, un po' narrative e un po' descrittive, che portano avanti la narrazione e nello stesso tempo descrivono qualcosa. Faccio un esempio, il primo esempio che mi viene in mente. Arrivammo a quella casa bella, sontuosa, che si trovava in cima alla collina, verso le tre del pomeriggio. Qui abbiamo una sequenza mista, come vedete, e cioè una breve descrizione della casa, che viene definita sontuosa, e un movimento narrativo. Arrivammo. Il bravo scrittore, direi che è colui che sa alternare al meglio, in modo chiaro, sintetico e armonioso, le varie sequenze sulla pagina. Tutto qui. Quindi, riassumendo, che tipo di sequenze sono le descrizioni di un romanzo? Sono sequenze descrittive, lo dice la parola, nelle quali passiamo delle informazioni al lettore. Il lettore, ricordiamolo, è in pausa. L'azione è ferma o comunque rallentata. Cosa si può fare per rendere gradevoli e nutrienti queste descrizioni, queste attese al lettore? Anzitutto, banalmente, abbreviandole, scartando quelle meno utili al racconto e quelle meno belle. È tutto un problema di dosaggio stilistico. Bisogna evitare le linee di massima, gli elenchi troppo dettagliati, pieni di aggettivi, a meno che non siate barocchi per una scelta. Bisogna evitare l'effetto identikit. Bisogna passare al lettore poche informazioni, distribuendole, disseminandole nel testo un po' alla volta, per non sovraccaricarlo, per rendergli la pillola della descrizione, l'attesa, gradevole e interessante. Non dico che sia facile, tutt'altro, anzi, direi che è la cosa più difficile in assoluto, imparare a distribuire, cioè a sciogliere nel testo, le nostre descrizioni, alternandole opportunamente, armoniosamente con le altre sequenze, cioè con i dialoghi, con l'azione e con la riflessione, confidando nella prossima pausa del racconto per arricchire il quadro di ulteriori dettagli. Ovviamente noi, come scrittori, dobbiamo comunque avere ben chiaro nella testa tutto il quadro completo, anche se distilleremo col contagocce le informazioni, come abbiamo detto. Dunque, lo avrete capito, nelle descrizioni entra in gioco lo stile, che ci fa decidere quanti dettagli devono esserci nella nostra prosa, quanti aggettivi possiamo permetterci col nostro stile, con lo stile che abbiamo adottato. Per migliorare, nelle descrizioni, bisogna mettere nella cassetta degli attrezzi un paio di cose. La capacità di osservazione e l'ampliamento del vocabolario. La capacità di sintesi è un aiuto ulteriore che non guasta mai. Il tutto come lo otteniamo? Naturalmente leggendo di più, come al solito, leggendo tanto, leggendo di tutto, anche i generi letterari che ci interessano di meno. Dobbiamo essere parchi di aggettivi o, se volete, di dettagli naturalistici, ambientali, ma bisogna conoscerne tanti, in modo da essere più bravi nella scelta, nella selezione, nel dosaggio progressivo. La nostra capacità di osservazione come scrittori avviene attraverso le percezioni sensoriali. Lo sappiamo, quindi fare buone descrizioni significa essere bravi a raccontare attraverso i cinque sensi. Un bravo scrittore avrà dunque una prosa che alterna le varie sequenze, dialogiche, descrittive, riflessive, in modo armonico, equilibrato, senza che il lettore se ne accorga, senza che avverta attriti nel passaggio da una sequenza all'altra. Le descrizioni possono essere oggettive e soggettive. La descrizione oggettiva, documentaria, descrive oggettivamente, appunto, in modo asettico, impersonale. La descrizione soggettiva, invece, è personale, va da sé e deve dare conto di sentimenti, opinioni, riflessioni. Le descrizioni devono comunque lasciare sempre dei vuoti nella rappresentazione, che vanno riempiti opportunamente dall'immaginazione del lettore. Non dimentichiamoci mai che il lettore deve essere, deve avere una funzione attiva. Concluderei con un bellissimo incipit descrittivo, quello di Chiamalo Sonno, Call It Sleep, romanzo di formazione di Henry Roth, fra i più belli e forti che abbia letto. Ovviamente ve lo consiglio. Henry Roth, Chiamalo Sonno. Il vaporetto bianco, il Peter Stoilesan, che scaricava gli immigranti dal tanfo e dal pulsare della classe ponte al tanfo e al pulsare dei casamenti di New York, ondeggiava appena sull'acqua, accanto al molo di pietra, dalla parte sottovento delle baracche stinte e delle nuove costruzioni in mattoni di Ellis Island. Farmacia Letteraria, un podcast della Scuola di Scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale. 351-877-9461 Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.